Bene, buongiorno, grazie per essere intervenuti a questa giornata di presentazione e inaugurazione della mostra sulla toponomastica e la didattica della geografia, una mostra che ha già girato negli Atenei Romani, che oggi viene riallestita nella sede della società. Grazie alla collaborazione con l'Istituto Geografico Militare e con la divisione romano-ellenica del gruppo di esperti sui nomi geografici delle Nazioni Unite, il cui presidente qui presente è il professor Cantile. Il riallestimento dell'esposizione, oltre ad essere un fatto comunque di persone interessanti, ci consentirà auspicabilmente di far avvicinare anche studenti di scuole superiori, oltre che studenti universitari, al tema della toponomastica e più in generale degli studi geografici e storico-geografici. Ma di tutto questo e in particolare del senso e dello scopo di questo lavoro congiunto tra l'Istituto Geografico Militare e la società geografica ora, ma prima che la società geografica e le università romane, ci parlerà sicuramente un po' meglio l'amico Cantile, che invito a prendere posto, mentre devo comunicare che abbiamo atteso, insomma, il comandante dell'Istituto Geografico Militare, il generale Massimo Panizzi, arriverà, ma è stato trattenuto per motivi d'ufficio e quindi per questa ragione abbiamo deciso intanto di avviare i lavori. Buongiorno a tutti, permettetemi intanto di ringraziare il professor Cedreti e la società geografica per la sempre esquisita disponibilità alle richieste del professor Cantile, dell'ONU dell'Istituto Geografico Militare e di ringraziare i colleghi Bozzato, da Scenzo e Morri, che hanno molto, molto generosamente e cortesemente accolta la proposta di organizzare questi eventi presso i tre atenei statali romani. Con il professor Cedreti avevamo concordato che il mio intervento oggi, più che di, insomma, entrare nel merito delle problematiche toponomastiche italiane o mondiali, forse era meglio inquadrare il problema, poi magari se ci sarà tempo dopo possiamo ricavarci un po' di tempo per domande, insomma, e quindi centrare questo intervento sul perché l'ONU si occupa di toponomastiche. E quindi se possiamo, preparate una presentazione proprio per non perdermi troppo, perché poi le cose da dire sarebbero, come potete immaginare, tante, e per non perdermi appunto ho predisposto questa breve presentazione. Un paio d'ore, un paio d'ore ce la facciamo, ce la caviamo, ce la leviamo facilmente. Allora, l'impegno delle Nazioni Unite in materia di nomi geografici. Già subito, la prima domanda è, ma perché l'ONU si occupa di questa materia? Allora, per andare avanti basta fare così, questo. accenderemo. Ah, accende nelle migliori famiglie. E quindi? No. Adesso vado, quindi avanti e indietro. Allora, comincio subito. Gli argomenti che ho selezionato sono questi sette, vedete le origini, come nasce l'impegno dell'ONU in questo campo, perché ovviamente, come dicevo prima, è sicuramente la prima domanda, come mai l'ONU si occupa di questo argomento? Come si è organizzata l'ONU? Quindi che cos'è l'UNGEGEN e come funziona? farò un breve accenno, ma proprio un sorvolo a quota altissima sulle risoluzioni, le raccomandazioni dell'ONU in materia dei nomi geografici. La strategia che segue l'ONU in questo campo, vedrete che poi, io ho cercato di riassumerla, come vedrete in una slide di pochi punti, proprio per cercare di essere più efficace possibile nella comunicazione, in modo che ti presti qualche cosa, perché mi avevano detto che c'erano anche degli allievi oggi, degli studenti, quindi diciamo che la comunicazione è rivolta più a loro che ai colleghi che queste cose le sanno. Non potevo non fare una, aprire una parentesi, una finestra sulla attività di normalizzazione economastica in Italia e concludere con che cos'è la divisione romano-ellenica che ha organizzato tutto questo che oggi andiamo. Prima di scorrere però le slide e di entrare nel merito, io vorrei fare però, con il vostro permesso, una puntualizzazione proprio sul termine normalizzazione. Normalmente, quando usiamo questo termine, noi lo associamo sempre a un qualche cosa che ci evoca un'attività coercitiva, ci obbliga a fare delle cose, va bene, perché normalizzare purtroppo, insomma, a noi fa venire in mente delle attività che in qualche modo si debbano subire, ecco, perché c'è qualcuno che impone un qualche cosa ad altri. In realtà il termine normalizzazione è la traduzione più corretta di standardization inglese-americano, va bene, perché per fortuna l'abbiamo acquisito pure noi nel nostro lessico, diciamo il termine standardizzare, per cui se diciamo standardizzare ci preoccupiamo un po' meno. Se invece diciamo normalizzare, già la cosa comincia un po' a insospettirci. Se poi la normalizzazione passa attraverso un organo dell'esercito, un istituto geografico militare, a qualcuno gli si rizzano i capelli in testo, perché cosa centrano i militari con l'attività di normalizzazione? E beh, io cercherò di spiegare un attimo anche questa cosa qui, sempre con volo a quotare. Allora, quando nasce questa attività dall'ONU? Beh, praticamente, come potete vedere dalla slide, è quasi subito, nasce, perché già nel 1948 il Consiglio Economico e Sociale, l'Ecosoc, si rende conto che per le attività di carattere cartografico c'era necessità di, se preferite sul termine standardizzazione, c'era necessità di standardizzare la forma ortografica e poi anche le pronunce, quindi la componente ortografica e ortoepica, se vogliamo, e delle pronunce, dei nomi geografici. Questo è il primo campanello d'allarme. Subito dopo, nel 1955, c'è proprio una risoluzione dell'Ecosoc che stabilisce questi due punti, come vedete, favorire la nascita di organizzazioni nazionali in giro per il mondo, in tutti i paesi membri dell'ONU, per la normalizzazione dei nomi geografici e per la produzione di dizionari geografici nazionali. Che cosa sostiene l'ONU in questo caso? Dice che ogni stato membro esercita la propria sovranità all'interno del proprio stato, realizzi secondo i criteri che ritiene più opportuno adottare un dizionario dei termini geografici che però possa essere definito come dizionario ufficiale della toponomastica di quel paese. Quindi ogni paese si fa i suoi dizionari e al proprio interno, per raggiungere questo obiettivo, crei delle organizzazioni ad hoc che si occupino di questa materia. L'altro punto, come vedete, è adottare misure necessarie per garantire l'accorta delle informazioni riguardanti le procedure tecniche, cioè come viene realizzata la normalizzazione toponomastica in giro per il mondo, ogni paese, quali regole adotta. È possibile trovare un momento di confronto tra le regole adottate dal paese A, dal paese B, dal paese C? L'altro, i sistemi di traslitterazione dei nomi geografici che siano possibilmente realizzati attraverso l'azione universale dell'alfabeto latino. Con tutti gli alfabeti che sono presenti sulla superficie della terra, siccome la stragrande maggioranza delle lingue parlate sul territorio terrestre, sulla superficie terrestre, fa capo all'alfabeto latino, ecco che nasce questa esigenza, gli inglesi dicono romanizzazione, dell'adozione dell'alfabeto latino. Questi sono i due, sono il plinto sul quale nasce poi un qualche cosa che succederà subito dopo, nel 59 l'Ecosoc tra le proprie risoluzioni dà il via alla creazione di un momento importante, che è quello fondamentale. Pensate che per 50 anni è valsa questa regola che sto per mostrarvi adesso, che sto per riferirvi adesso. Cioè la creazione delle conferenze internazionali di toponomastica e la creazione di un organismo che è il gruppo di esperti delle Nazioni Unite in materia di nomi geografici. Quindi viene chiamato un gruppo di esperti che si riunisce all'inizio, era un gruppo abbastanza limitato, e nel 67, eccolo qua, nel 67, la prima conferenza internazionale per la normalizzazione dei nomi geografici. La conferenza si riunisce in sede ONU di Ginevra, già anche dirla sta cosa, anche l'Italia è accreditata per partecipare alla prima conferenza di normalizzazione dei nomi geografici, però il delegato italiano non si presenta, per cui l'Italia risulta accreditata ma non presente all'assise. Quali sono gli obiettivi di questa conferenza, di questa prima conferenza, che ripeto, durerà proprio per 50 anni questo modello. Incoraggiare la normalizzazione dei nomi geografici all'interno delle singole Nazioni e normalizzare quindi a livello nazionale e a livello internazionale. Come avviene la normalizzazione internazionale? Passa attraverso una normalizzazione nazionale, cioè se ogni Stato membro normalizza i nomi geografici al proprio interno, crea il presupposto per poter passare allo step successivo, cioè a normalizzare anche la toponomastica di uso internazionale. E qui si cominciano ad aprire degli aspetti problematici, ai quali farò soltanto un breve scenno magari. L'altro ovviamente è quello che avevo già richiamato, cioè l'adozione dell'alfabeto latino per la romanizzazione di tutti i nomi geografici scritti nei vari alfabeti esistenti al mondo. La struttura alla quale accennavo prima, che durerà appunto per 50 anni, è quella di consentire al gruppo di esperti, all'Hunghegen, poi la sigla per i paesi neolatini è Genung, per gli italiani, francesi, spagnoli, portoghesi, e per tutto il resto è un Geoghen, la sigla in inglese. Il gruppo di esperti quindi si può riunire ogni due anni per preparare la conferenza che sarà poi realizzata a cadenza di cinque anni. Perché fanno due sessioni di lavoro prima della conferenza? Perché le sessioni di lavoro servono per mettere a fuoco le problematiche, discuterle e cominciare a preparare quelle sono le bozze di risoluzione da adottare in sede delle conferenze. Quindi la conferenza è il luogo deputato per la formalizzazione in forma definitiva della proposta di formalizzazione, di risoluzione. Chi adotta poi materialmente la risoluzione non è l'Hunghegen e non è manco la conferenza. È l'Ecosoc in sede di riunione plenaria, quindi è il livello politico. Quindi questa commistione, come potete facilmente capire, di due momenti di carattere tecnico-scientifico, non vi ho detto chi sono i membri dell'Hunghegen, sono geografi, linguisti, storici, urbanisti, architetti, tutti coloro che storici, non so se l'ho già detto, tutti coloro che in qualche modo hanno a che fare con i nomi geografici e anche istituzioni non governative, ci arriverò fra un attimo. Quindi c'è una componente scientifica che fa da supporto per la discussione dei temi rilevanti e per la preparazione delle bozze. Poi c'è un momento di adozione e già c'è una forte componente politica che interviene, e poi c'è la ratifica finale, quindi la scrittura e l'approvazione delle risoluzioni ONU. Questo schema, come dicevo prima e ho pure ripetuto, si protrae dal 67 fino al 2017. Queste sono le sedi delle conferenze ONU, più o meno ogni cinque anni, c'è stato qualche inghippo, ma ogni cinque anni una conferenza ONU. Io ho cominciato nel 2000 con la conferenza di Berlino e spero di andarne l'anno prossimo. Vabbè, ma questo lo diremo, necessa essere. Vabbè, queste sono le 11 conferenze, nel 2017 questo modello viene interrotto. Nasce il nuovo Ungegen. Perché il nuovo Ungegen? Perché finalmente questo modello, questa commistione tra aspetti di carattere scientifico, aspetti di carattere anche tecnico se volete, perché poi c'è il trattamento del dato all'interno dei database toponomastici, quindi c'è una componente scientifica, c'è una componente anche di carattere tecnico e la componente politica. Viene fatta fuori decisamente la componente politica, il nuovo Ungegen si riunisce ogni due anni, prevalentemente nel Palazzo di Vetero, avete visto nella slide precedente, cercavano di coinvolgere anche altre sedi, ma non perché facessero turismo, fatemelo dire con tutta sincerità, non perché i dipendenti ONU facessero turismo congressuale, ma era per favorire i paesi meno avvantaggiati nello spostamento dalle varie parti del mondo, tutto su Manhattan, tutto su New York. A un certo punto però le finanze ONU sono andate un po' in difficoltà, per cui le trasferte di questo personale ha costretto a riunire tutto al Palazzo di Vetero, ecco perché ci si riunisce ogni due anni lì. Quindi spariscono le conferenze quinquennali e il gruppo di esperti produce subito ogni due anni una proposta di variazione di risoluzioni presentando delle raccomandazioni che poi vengono recepite o no dall'Ecosoc e in quella sede lì diventano poi risoluzioni ONU da presentare a tutti i paesi. Va beh, questo l'abbiamo già detto. Perché l'ONU si occupa di questo argomento? Questa era la prima domanda. Allora, molti anni fa l'ONU ha prodotto un flyer, un volantino pubblicitario, che cominciava proprio con questa domanda qua. Era la trovata più immediata, lo slogan più immediato. Soprivate che città del Capo, Cap Town, Cap Star, Capal, Cap e Capacump, chi non me lo fate dire perché non lo so pronunciare, sono tutti nomi dello stesso luogo? Perché? Perché sono tutti nomi ufficiali per giunta, non sono nomi che un gruppo sociale, pronuncia in un modo, un altro gruppo lo pronuncia in un altro. No, sono tutti i nomi ufficiali di città del Capo, perché quelle sono le lingue ufficiali di quel paese. Quindi ogni lingua ufficiale ha il diritto di formulare il modo corretto sul piano ortografico e ortoepico del dizionario geografico di quel paese, secondo la propria lingua. Allora, ecco, quindi con questo slogan viene fuori questa conclusione. La normalizzazione è avuta a ridurre il rischio di confusione con varianti che sono utilizzate in testi redatti in lingue diverse. in generale l'uso della toponomastica concorre, di una toponomastica corretta, no? Quindi una toponomastica normalizzata concorre al mantenimento della pace, dice l'ONU, della sicurezza internazionale, al miglioramento delle relazioni amichevole tra le nazioni, allo sviluppo della cooperazione internazionale e alla harmonizzazione delle attività delle nazioni. Sappiamo troppo bene quanto un toponimo, un nome di luogo, sia di fatto un'opportunità per certi versi, ma sia anche un motivo di scontro, sia un motivo, cioè sono fatte le guerre per la toponomastica e ancora oggi se ne fanno. Quindi una toponomastica normalizzata è sicuramente un presupposto fondamentale per poter arrivare a questo. Ecco perché l'ONU si preoccupa di questo argomento. Quali sono i benefici che se ne possano trarre? E qui l'ONU ha fatto proprio una lista di benefici, di vantaggi che possono essere tratti da una toponomastica normalizzata ufficiale per tutto il mondo. Quindi normalizzazione ripeto nazionale e internazionale. Predisposizione di soccorsi in case di emergenza. Se io devo portare un container di aiuti a una popolazione che è stata afflitta da un alluvione, va bene, il nome geografico è fondamentale per orientare il convoglio, per orientare chi deve fare il delivery di questi beni, di questi aiuti. Laddove esistono situazioni come quella che ho richiamato prima di città del capo, si possono creare degli smarrimenti. Quindi una toponomastica normalizzata aiuta in questi casi. strategie di sicurezza e operazioni di mantenimento della pace. Interventi di ricerca e di salvataggio, vedete il toponimo indica un luogo. Poi aggiornamento ovviamente sul piano cartografico e degli atlanti. la mobilità, la mobilità generata con i sistemi di navigazione satellitari. Bene, quindi i nostri tontoni per intenderci, i nostri navigatori satellitari. I benefici nel turismo, comunicazione, servizi postali e di informazione, commercio e scambio, censimenti della popolazione e statistica nazionale, diritti di proprietà e catastrofi, pianificazione urbanistica territoriale e del paesaggio, gestione dell'ambiente. Un elenco ci dà veramente l'entità dei benefici. A questo punto vediamo come opera l'ONU. Attraverso quindi per il tramite dell'UNGA che sviluppa dei programmi diretti a stimolare la creazione in ogni paese di una autorità nazionale. Noi siamo vittime delle parole, per cui già in Italia usare l'espressione autorità nazionale di toponomastica genera qualche preoccupazione. infatti noi abbiamo, da 1911 in Italia, esistita la commissione per la toponomastica. La redazione di questi gazzettiri di toponomastica, registri di toponomastica, promuovere quindi l'uso di toponimi normalizzati. Cosa significa promuovere? Cioè una volta che tu li hai fatti poi li devi mettere a disposizione di tutti, non li devi tenere chiusi in cassaporte. Quindi devi condividere questo patrimonio toponimico che tu hai realizzato e che alla comunità nazionale costa. Favorire lo sviluppo e trattamento automatico dei dati, perché questo è garanzia di funzionamento, quindi la componente tecnica e tecnologica entra fortemente in merito alla questione. Incentivare la normalizzazione di entità geografica e transfrontaliere, qui cominciano i primi problemi della normalizzazione internazionale, un nome che sta a cavallo tra un paese e l'altro. Ecco, si richiede, l'ONU auspica che questi due paesi trovino un momento di incontro per evitare che uno lo chiami in un modo o uno lo chiami in un altro. Va bene? Promuovere l'uso di terminologia normalizzata, quindi anche il lessico in campo toponomastico deve essere normalizzato all'interno del paese, ma anche una normalizzazione del lessico toponomastico di carattere internazionale. Ecco perché Lunghagen ha creato il glossario internazionale di toponomastica tradotto nelle sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite. Promuovere i sistemi unici di traslitterazione in carattere latino, per cui ogni paese presenta il sistema di traslitterazione si discute in ambito Lunghagen e quello diventa una decisione di tipo legale, diventa una legge all'interno di quel paese per cui la traslitterazione da quell'alfabeto lì all'alfabeto latino avviene secondo quelle regole, anche quello è normalizzazione. Poi la divulgazione, questo l'avevo già accennato mentre commentavo quell'altro, dei nomi ufficiali, ma divulgare anche i nomi ufficiali decretati dagli altri paesi. Quindi qui si apre un punto veramente dolente, tant'è che poi vi sono segnato proprio una slide a questo riguardo, per mettere in evidenza il fatto che la discussione ancora non è chiusa, è ancora aperta, perché questo richiama all'uso generalizzato degli endonimi al posto degli esonimi, per gli studenti presenti in aula. Dico un endonimo, magari lo sapete già, la lezione ve l'hanno già spiegato, un endonimo è Roma, bene, perché è il nome di questa città pronunciata secondo la lingua italiana, quindi gli italiani usano come endonimo il toponimo Roma. Rom invece è un esonimo di un'altra lingua. Noi diciamo Parigi è l'esonimo italiano di Parì, ok? Londra è l'esonimo di Londo. Ecco, che cosa significa questo? Significa cercare, e qui c'è stata una risoluzione molto discussa e molto importante, che ha un valore culturale enorme, cioè quello di educare le giovani generazioni a usare gli endonimi dei vari paesi. Bene, quante persone oggi non usano più un toponimo come Costantinopoli per dire, no? Austerlitz. Quanti ragazzi oggi non hanno difficoltà a dire London? Ecco, abbiamo il generale comandante, è un processo lento, va bene, però non è impossibile. L'ultimo è sviluppare adeguati strumenti formativi e di comunicazione, perché è evidente che tutto passa attraverso un'adeguata formazione in campo toponomistico. Queste ora le commentiamo uno per uno in tutti quanti, sono 24… no, no, scherzo. Sono le 24 divisioni linguistiche e geografiche che compongono il gruppo di esperti delle Nazioni Unite. Bene, quindi Lunghagen è strutturato in 24 divisioni linguistiche e geografiche. L'Italia rientra nella divisione romano-ellenica, vedetelo evidenziata in giallo, poi di quella ve ne parlerò dopo. Oltre alle 24 divisioni linguistiche e geografiche ci sono 10 gruppi di lavoro e 3 gruppi di lavoro che non sono più attivi. Per gli interessi da professoressa d'ascenso ho inserito anche il gruppo di lavoro che fu costituito per i nomi geografici extraterrestri. E questi sono gruppi di lavoro che operano al lato delle divisioni. oltre alle divisioni e oltre ai gruppi di lavoro ci sono, come vi accennavo prima, le organizzazioni non governative. E qui ne approfitto per mettere in evidenza la presenza della International Cartographic Association e della International Geographical Union, rappresentata magistralmente dal professor Cosimo Palagiani, che ringrazio della presenza oggi qui da noi e ne approfitto anche per segnalarvi che domani all'Accademia dei Lincei il professor Palagiano ha organizzato un importantissimo convegno internazionale di toponomastiche. Vabbè, salto velocemente. Questa slide è soltanto per darvi l'idea di quante risoluzioni vengono realizzate in 50 anni di attività delle famose conferenze internazionali per la normalizzazione dei nomi geografici a livello nazionale e internazionale. Come potete vedere, il numero più grande di risoluzioni è quello relativo alla romanizzazione, cioè all'adozione dell'alfabeto latino per la traslitterazione dagli altri alfabeti. Il nuovo ungegen viene creato nel 19 e dal 19 al 21, tanto ve l'ho già anticipato, le modalità di funzionamento, vengono realizzate altre 9 raccomandazioni proposte, 9 raccomandazioni da parte del ungegen. Quali sono, qual è questa strategia, ho detto qui in una slide, vi ho concentrato in sette punti fondamentali la strategia onusica. Le cose fondamentali che l'ONU chiede a ogni paese membro sono la creazione di una, vedete che qui non ho messo authority, ho scritto commissione toponomastica ufficiale, la creazione e la condivisione di database di toponomastica ufficiale, una volta che l'hai fatti li devi condividere, devi lasciare a libera consultazione e anche, immaginate a un geografo non gli devo dire qual è il potenziale di ricerca che c'è nell'avere la possibilità di avere un approccio diretto a una banca dati toponomastica a livello nazionale, immaginate a livello internazionale. Produzione delle toponimiche guidelines for map and other editors, le norme per la produzione di documentazioni che fanno uso di toponomastica ufficiale, quindi ogni paese deve fare le proprie linee guida e l'Italia poi vedrete che le ha fatte. Una produzione di un elenco, un gazzettino di tutti gli esonimi utilizzati da quel paese e l'Italia ha provveduto, ve lo faccio vedere. Riconoscimento dei diritti delle minoranze linguistiche, nel caso italiano abbiamo una legge che stabilisce quali sono le minoranze linguistiche storiche sul territorio nazionale, la tutela dei buoni come patrimonio culturale immateriale dell'umanità, la normalizzazione internazionale secondo l'alfabeto latino che ho detto. Qual è il punto più dolente in questo momento nel dibattito presso le Nazioni Unite? È proprio questo argomento endonimi contro esonimi. C'è un gruppo di persone, di studiosi, di Chiara Fan, che in questo momento, diciamo da diversi anni a questa parte, sta proponendo una riflessione di controtendenza. Quella che era, vi ho detto, questa idea di grande respiro culturale dell'adozione generalizzata in tutto il mondo delle forme endonimiche approvate da ciascuno Stato membro, viene ora messa in discussione perché nel momento in cui l'ONU riconosce il valore di bene culturale immateriale ha un nome geografico, bene culturale immateriale è anche Londra, è anche Parigi, è anche Barcellona, è anche quello che volete, tutti i nomi, tutti gli esonimi italiani diventano un bene culturale della lingua italiana. Questo ha generato un grosso contrasto, immaginate, nell'ambito dei paesi che hanno subito il colonialismo, per cui il problema si è spostato immediatamente dal piano scientifico al piano politico. Una quadra ancora non è stata trovata, stiamo ancora discutendo su questo argomento, il parere di chi vi parla è che non c'è assolutamente dubbio, è il momento più alto di riconoscimento del valore culturale di un popolo, di un paese, quello di adottare a livello internazionale i nomi così come loro hanno deciso che siano ufficiali. Questa è la dimostrazione più alta che l'umanità possa fare. Però è un'opinione personale che ovviamente io porto in quel contesto e che discuto con tutti gli altri colleghi. Normalizzazione toponomastica in Italia, che cosa fa l'Italia in questo campo? Quando vi ho detto national authorities, guardate quella slide quanto è dura. in colore rosino ci sono i paesi nel mondo che ancora non si sono dotati di una commissione toponomastica ufficiale. Vedete nel Mediterraneo gli spicca una sola. Il cartogramma è del 2016, nel frattempo il Regno Unito si è dotato della commissione toponomastica che anche loro non ce l'avevano. L'Italia ce l'aveva, è stata tra i primi al mondo a crearla, tant'è vero che l'ha costituita nel 1911, per la revisione della toponomastica della Carta d'Italia, della monumentale Carta d'Italia alla scala del 100.000. Poi il Parlamento italiano nel 2008 ha deciso che fosse una istituzione che era una degli enti inutili, per cui l'ha soppresso. L'Istituto Geografico Militare, consapevole dell'importanza di un organismo di questa natura, non poteva fare altro che dotarsi di una commissione per la toponomastica ufficiale italiana interna a supporto della realizzazione e dell'allestimento della Carta ufficiale d'Italia. Per cui la commissione esiste, è stata creata all'interno dell'Istituto Geografico Militare, la commissione si avvale della collaborazione di altri specialisti, specialmente nel mondo accademico italiano, ma anche delle istituzioni, e crea dei ponti nei confronti delle regioni e delle province autonome italiane, e poi in chiusura vi dirò le ultime novità in questo campo che l'Igm ha portato avanti. O forse preferisce riferirvelo direttamente il generale comandante, visto che abbiamo il piacere e l'onore di averlo qui in questo tavolo oggi. La creazione di un database toponomastico. L'Igm ha provveduto a farlo addirittura tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90, quindi è stato anche in questo tra i primi al mondo a dotarsi di una banca dati geografici. Si chiamava DB Topo 25K25 perché il contenuto era tratto dalle tavolette a 25.000 prodotte dall'Igm. Non vi annoio sulle caratteristiche tecniche di questo database, ma pensate che è stato pensato fin dall'inizio, è stato creato già pensando a utilizzazioni differenziate, differenziandolo appunto in formati DBF, MDB e Excel. Quindi oggi abbiamo la possibilità di interrogarlo come database, ma addirittura come un semplice foglio di calcolo di Excel. Ammonta a questa data a 750.000 record in totale. la struttura del record è composta da 20 campi, ma insomma non vi annoio con questi aspetti, anche perché sono cose già pubblicate, le trovate tranquillamente in letteratura. Mi soffermo un attimo sulla questione normalizzazione, che forse vale la pena di chiarire meglio a beneficio degli studenti presenti, che cosa è consistita la normalizzazione dei nomi geografici del database DB25 dell'Igm. Correzioni ortografiche, cioè andare a correggere tutti i nomi che presentavano degli errori di trascrizione. Ebbene sì, siamo esseri umani, sbagliamo a scrivere VAB con 5B. Quindi correzione, sembra banale, ma non lo è. Correzione ortografica, riprendendo in mano tutti i documenti originali. E quindi verifica per toponimo 750.000. Scioglimento di tutte le abbreviazioni e delle sigle. Tutti i... Qui ce n'era uno, per esempio. Ecco, roggia corbetta. Quello è un esempio di abbreviazione. All'interno del database non posso lasciare R. Va bene? Lo devo sciogliere, perché chi andrà a fare la ricerca deve avere la forma già completa. Bene. Oppure devo prevedere tutte le soluzioni possibili. Bene. Ma siccome anche le abbreviazioni l'Igm le aveva normalizzate già agli inizi del Novecento, tutto questo è possibile decodificarlo e inserirlo all'interno del database. Quindi scioglimento sia delle sigle, sia delle abbreviazioni. Inserimento di tutti i segni diacritici che nel frattempo non ci sono stati. Chi ha avuto pratica di tavolette IGM, sa benissimo che i toponimi, che siano sdruccioli, che siano piani, sono tutti accentati per evitare problematiche di carattere ortoepico. Se prendete il foglio di Napoli, bene, voi ci trovate l'accento sulla A, per evitare che qualcuno da un paese, da Marte, non lo so, possa leggere Napoli. Bene. Quindi per evitare confusione tra lo sdrucciolo e il piano. Questi accorgimenti IGM li hanno mantenuti dagli inizi del Novecento. Quindi l'exio facilior, andare a verificare e inserire laddove questi segni diacritici, questi accenti non ci fossero stati all'interno del database. Verifica delle congruenze logiche. Se ho un toponimo che è Monte vattela a pescarla, quel toponimo deve essere riferito a Monte. E quindi devo andare a vedere se gli attributi che sono associati a quel toponimo, avete visto che ci sono 4-5 campi di attributi associati al toponimo, se sono coerenti con il toponimo e quindi verifiche di congruenze logiche. Eliminazione di tutti i testi spuri. I testi spuri all'interno della banca dati doconomastica erano composti da le sigle autostradali, le sigle delle strade provinciali, i valori dei sottopassaggi, l'ampiezza delle strattoie stradali, l'indicazione delle pietre chilometriche K1, K15, K25. Era stato tutto inserito all'interno del database toponomastico, ma quello è un sottoponimo. Quindi toponomastico è una cosa, scritture varie è un'altra cosa. È stato fatto anche questo lavoro, anni di lavoro, però adesso c'è. E poi via via che prosegue il lavoro in altre scale, perché questo era quello che ho detto è il 25K, contemporaneamente si sta lavorando alla realizzazione di database per il 100.000, per il 250.000, per il 500.000, per il 1.000.000, per il 1.200.000, insomma per tutto il portafoglio cartografico prodotto dall'Igm in 151 anni di attività. Quindi via via che si va, vengono fuori delle anomalie, si chiariscono e si portano avanti. Questo vi avevo detto, un foglio di calcolo Excel, questa è una schermata di un pezzo di database toponomastico dell'Igm con i valori delle coordinate, il codice FAC che è un codice degli attributi che rimanda al digest e uno standard deduttato in ambito nato, e poi l'elenco alfabetico, in ordine alfabetico, e un numero che rimanda al numero del codice. L'ampliamento, che è una delle cose più importanti del database toponomastico, è quello che ci sta impegnando massicciamente in questo periodo. Magari, però ripeto, forse vorrà accennarlo il signor generale comandante, casomai ci posso tornare io dopo. Le toponimi guidelines sono state prodotte, pensate già nell'87, nel 98 la seconda edizione, l'ultima edizione è stata fatta, curata da me nel 2004, e per il 25 ho in animo la revisione finale delle toponimi guidelines, testamento, nel 25 insomma, se ce la faccio, faccio l'ultima edizione delle toponimi guidelines. Lista degli esonimi, e qui bisogna ringraziare compianto il professor Sandro Toniolo, che l'ha realizzato nel 2001, e l'abbiamo presentato in sua vece alle Nazioni Unite, quindi è stato pubblicato sia sulla rivista L'Universo, l'elenco dei principali esonimi italiani di endonimi europei, e poi è stato presentato anche all'inizio Unite. Ultimo paragrafo di questa lunga fiaccherata, però sono stato dentro le due ore, un sorvolo a quota ancora più alta sulla divisione romano-ellenica. Viene creata nel 1972, questa divisione, però non si chiama già divisione romano-ellenica, come vedete, è divisione delle lingue romanze, a esclusione delle lingue latinoamericane. Quando poi verrà creata la divisione francofona, allora ci sarà un chiarimento ulteriore anche in questo caso, nella denominazione. Chi sono gli stati membri della divisione romano-ellenica? 17 paesi, come vedete, tra quelli più grandi ci sono, come potete ben vedere, anche i paesi stanno dall'altra parte dell'oceano, perché il Canada ha due lingue ufficiali, l'inglese e il francese, quindi anche il Canada ha una lingua che deriva dal latino. Quindi la romano-ellenica è composta da tutti i paesi i cui lingue ufficiali derivano o dal greco o dal latino. La Turchia, grazie per avermelo fatto notare, la Turchia è una eccezione ed è stata accolta all'interno, allora tra le norme vigenti all'ONU c'è questa, che qualsiasi paese, può chiedere di aderire, di far parte di divisioni geografiche e linguistiche anche più di una divisione, quindi partecipare ai lavori di una divisione anche indipendentemente dall'uso di una lingua che afferisca quel gruppo linguistico. In il caso specifico della Turchia abbiamo una eccezione di carattere geografico, vi ho detto che le divisioni si chiamano linguistiche slash geografico, quindi per vicinanza la Turchia ha chiesto di partecipare, di aderire alla divisione romano-ellenica e la divisione romano-ellenica ha accolto con piacere la partecipazione della Turchia nell'ambito degli stati membri della romano-ellenica. Peraltro ha ringraziato nell'ultima sessione di maggio scorso, ha ringraziato in particolare la divisione romano-ellenica e l'Italia per aver inserito nell'elenco di tutte le geographical features che abbiamo realizzato in varie lingue, abbiamo inserito anche il turco e quindi ci hanno ringraziato. La divisione romano-ellenica ha organizzato fino ad oggi tre simposi internazionali, Firenze, Venezia e Napoli e abbiamo portato in giro, partendo dal simposio internazionale di toponomastica organizzato a Napoli nel 21, abbiamo organizzato questa mostra itinerante che vedete giù all'ingresso nelle aule del piano terra in collaborazione con l'amico carissimo Arturo Gallia, ha fatto il giro dei maggiori centri della Campania e ultimata quella sessione d'accordo con gli Atenei Romani e con la Società Geografica abbiamo proposto di estendere questo tour, questa mostra itinerante anche all'ambito degli Atenei Romani e ho portato come primo resoconto nell'ultima sessione ONU, ecco, forse c'è anche, ora non vedo da qua, una di queste foto è forse la lezione che abbiamo fatto alla Sapienza con il professor Morri. Questo era l'annuncio dato all'ONU di queste attività, ultimo evento in programma e qui devo ringraziare un'altra volta il professor Cedeti, la Società Geografica, la programmazione del quarto simposio internazionale di toponomastica della divisione romano-illenica dell'Ungegen in Società Geografica dall'11 al 13 settembre prossimo, entro maggio credo che manderò la call for contribution for papers, chi vorrà partecipare. Il tema è toponims as a means of expressing identification, location, possession, belonging, division and respect for people's culture, quindi perché tutto questo? Perché un toponimo è tutto questo? Ci possiamo parlare per giorni, ma un toponimo è tutta questa roba qui. E forse anche qualcos'altro, come avrò modo poi di dire a settembre prossimo, quando entreremo nel merito. Io mi congeto da voi, vi ringrazio tantissimo, però volevo farvi questa citazione di un poeta finlandese. Il nome di luogo è una chiave di ricordi ed esperienze. Avere familialità con lo stesso nome significa conoscersi un po'. I nomi sono segnali sociali di solidarietà. Più nomi si conoscono con gli altri, più forte è la solidarietà. Grazie. Grazie molto per questa illustrazione molto puntuale, molto precisa e molto utile del lavoro del gruppo di esperti e in generale delle politiche relative alla toponomastica. Poi privatamente chiederò all'amico Cantile come ci si fa a iscrivere nel gruppo di quelli in controtendenza, perché io sono della generazione, della vecchia generazione, quindi me lo posso permettere. Non credo che direbbe mai che va in vacanza in Hradska, è molto complicato e penso che continuerò a dire Croazia nel caso. Non parliamo dell'Ungheria. Nel frattempo ci ha raggiunto cortesemente il comandante dell'Istituto Geocafico Militare, il generale Massimo Panizzi, il quale rinnovo il ringraziamento e il benvenuto in questa sede che credo non avesse ancora avuto occasione di conoscere e che interverrà a questo punto a conclusione del giro di interventi di questa mattina. Proseguiamo quindi ora con i colleghi delle università che rappresentano le università romane presso le quali è stata avviata l'iniziativa, mantenuta l'iniziativa soprattutto nel binomio toponomastica e didattica a livello universitario. Vado nell'ordine alfabetico per cognome e pregherei ora Simone Bossato di Roma Torvergata di intervenire. Con i complimenti per la fresca nomina a Presidente del Distretto Tecnologico per i Bani Culturali. Grazie Presidente, grazie veramente. Grazie dell'invito. Chiaramente un ringraziamento anche al generale comandante dell'Istituto Geocafico. Grafico Militare, a Andrea Cantile per il lavoro svolto e per anche il coinvolgimento della mia università all'interno di questo progetto importante. E un ringraziamento grande anche a Arturo Gallia che è stato in qualche modo, passatemi la battuta, il normalizzatore anche della mostra rispetto ai diversi spazi e alle diverse urgenze che le università nelle loro differenze anche di ampiezza e di possibili realizzazioni hanno potuto mettere in campo. Grazie anche Andrea perché è vero che il tuo discorso era rivolto a tutto il mondo degli studenti che a distanza o in presenza possono fruire di queste informazioni così dettagliate, ma insomma anche per noi credo che sia molto importante avere un quadro definito ampio e così ben chiarificato rispetto al lavoro quotidiano sommerso che poco emerge magari delle commissioni e della difficoltà poi alle volte di vedere in termini di slogan questo lavoro magari riportato come qualcosa di poco produttivo, poco funzionale rispetto appunto anche alla battuta che hai fatto precedentemente, all'urgenza invece sempre più chiara non riguardante solo i fatti che riguardano la dimensione geopolitica internazionale attuale, evidentemente direttamente riferita, ma anche le scelte che dovremmo fare da qui a breve rispetto ai cambiamenti di relazione che ci comportano gli SDG o tutto quello che rappresenta ad esempio un riferimento attento a tanti diversi fattori di ridefinizione degli spazi che ci rappresentano in modo diretto come geografi, ma che poi ci vedranno anche attivamente coinvolti nelle diverse attività di programmazione messe in campo che possono essere appunto, che debbono essere anche fattori concreti delle nostre azioni. In questa direzione il lavoro che ha fatto l'Università di Tor Vergata insieme appunto agli organizzatori e curatori della mostra è stato quello di cercare di coinvolgere quanto più possibile i nostri studenti, in realtà anche noi abbiamo fatto la scelta di allargarci non solo ai nostri studenti ma anche ai nostri, chiaramente ai nostri dottorandi a tutti i livelli di formazione che abbiamo all'interno, ma anche di allargarci alle scuole del territorio e di altri contesti e anche di declinare quella mostra rispetto a un'azione specifica, cioè abbiamo legato un seminario scientifico alla mostra parlando di un tema di grandissima attualità se ricordate, forse anche insomma siamo stati anche precursori non di sciagure fortunatamente, ma di riferimenti che ci hanno portato a focalizzare l'attenzione della mostra sì in Campania, ma in particolar modo rispetto alla situazione di Pozzuoli e quindi di quello che è stato un'urgenza che sentivamo in quel momento, un po' perché abbiamo avuto anche la fortuna che insomma l'attuale assessore che ha competenza rispetto ai problemi specifici di quella realtà, il Giacomo Bandiera, è un geografo e quindi questo è un fatto che ci rappresenta tutti e che quindi sta mettendo insieme anche delle ulteriori commissioni, quindi quel lavoro ha già un'evoluzione a livello locale molto molto importante, anche molto innovative, cioè creando una commissione apposita che non è fatta solo da vulcanologi, da geologi, da urbanisti rispetto alla situazione di Pozzuoli e del contesto territoriale, ma che allarga anche nello sguardo di valorizzazione di quel contesto e non solo ad economisti e sociologi, ma anche appunto a geografi, quindi l'urgenza che sentiva una realtà come la città di Pozzuoli di confrontarsi col mondo della ricerca attraverso strumenti già attivi, di chiedere aiuto attraverso una commissione ad hoc che operasse in quella direzione e di creare una commissione di supporto a tutte le decisioni che in questo momento sono state anche decisioni molto delicate, vi ricordo solo che 15 giorni fa si parlava di evacuare Pozzuoli e quella stessa commissione è stata di supporto alla protezione civile e agli altri organi di riferimento, naturalmente al sindaco e a tutto l'apparato comunale per dare delle informazioni molto puntuali sullo stato delle conoscenze, evidentemente sull'urgenza di un intervento in questa direzione Cosa c'entra col lavoro fatto? In realtà c'entra molto perché ci ha permesso di creare quella liaison importante creando un'iniziativa che entrasse nella dimensione toponomastica, negli aspetti riportati da quella stessa mostra ma che li legasse anche agli interventi disciplinari di un geologo che ci raccontasse che cosa significa non solo il bradisisma a Pozzuoli ma anche le relazioni con i campi farei o con la dimensione vesuviana di quali effetti tutto questo può avere su una comunità delle urgenze di una comunità di sentire proprio anche quella dimensione del rischio e del rilievo geografico di tutto questo rispetto alle scelte da mettere in campo e quindi l'intervento della collega Maria Laronza in quel caso fu importante proprio per far capire anche l'evoluzione della città rispetto a tutto questo ma anche una struttura di fondo cartografica che permettesse anche di avere un riferimento ampio in questa direzione oltre all'intervento dell'assessore che ci ha raccontato qual era lo stato dell'arte mentre il suo telefono squillava di cittadini che chiedevano come parare in questa direzione quindi ringraziamento da parte mia è molto grande non solo ad Andrea naturalmente alla società geografica che ha raccolto la sfida e mi congratulo col Presidente anche in relazione dell'iniziativa di settembre che trovo molto evocativo che sia fatta all'interno di questo contesto e immagino pure del rilievo, vado appunto alle conclusioni, del lavoro che è stato fatto in merito, cioè qui presente anche vedo Franco Salvatori in qualità di Presidente anche a merito della società geografica ma soprattutto del suo lavoro che fa il Comune di Roma rispetto alla Commissione Toconomastica cioè dell'urgenza di un dialogo attivo rispetto anche a questo insomma sono due mondi che hanno caratteristiche evidentemente differenti ma credo che anche qui creare degli elementi di relazione in questo è molto importante come mi congratulo col Professor Pallaggiano per l'iniziativa di domani siamo molto curiosi di capire anche le conclusioni che vanno in questa direzione pertanto grazie, è stata anche l'occasione di un dialogo attivo con le Università Romane ci sono tre aree dei ponti, dei luoghi dove questo avviene anche attraverso una mostra itinerante è un fatto sicuramente molto utile e molto importante e volevo confortare il Presidente perché anche io avrei qualche difficoltà la mattina ad andare all'Università a Torvergata Tower quindi sarebbe una situazione abbastanza complessa sotto il profilo personale quindi in questa direzione non so se la generazione è così lontana è tutto qui, grazie 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 Simone ora pregherei alla collega Annalisa D'Ascenso all'Università di Roma 3 di intervenire sempre sul tema toponomastica e didattica della geografia o su quello che ritiene più opportuno non devo normalizzare gli interventi più che tanto normalizzarmi no ma cercherò di essere breve perché come diceva Andrea è importante anche presentare agli studenti la mostra anche se effettivamente di occasioni ce ne sono state molte e allora ringrazio la Società Geografica per averla voluta allestire nei suoi spazi il generale comandante dell'IGM per essere qui con noi la comunità dei geografi le dà il benvenuto e ad Andrea Cantile per aver lavorato alla mostra col collega Arturo Gallia per averla allestita e per averla portata in giro per l'Italia ho il piacere di sottolineare questo aspetto che l'organizzazione della mostra nasce in sinergia tra l'Istituto Geografico Comico Militare e Roma 3 in particolare il Laboratorio Cadaci con il contributo delle conservatorie napoletane questo è veramente un piacere ricordarlo e poi anche che l'inaugurazione effettiva della mostra è stata da noi a Roma 3 in occasione dei lavori del 14esimo seminario dalla Mappa al GIS quindi all'incirca un anno fa e ricordo che in quei giorni c'era stata da poco la tragedia di Ischia e quindi l'aspetto che sottolineava il collega adesso di utilizzare le occasioni per riflettere sul territorio sulle problematiche che conosciamo e che certe volte vengono un po' nascoste, tacitate e che poi si ripresentano drammaticamente alla nostra attenzione e proprio in quei giorni guardando le carte esposte il dettaglio, le capacità di dettaglio, la bellezza delle carte ci interrogavamo su come quanto la toponomastica la cartografia in generale ma di nuovo la toponomastica in particolare possano aiutarci a trovare non delle soluzioni però a riportarci, a richiamarci al ruolo che la denominazione dei luoghi ha nel raccontare la propria storia e allora la presentazione del professor Cantile mi faceva venire in mente che dobbiamo sempre giocare sulla scala è vero certo la standardizzazione la normalizzazione perché ci sono esigenze internazionali comprensibilissime c'è però la scala locale che la toponomastica restituisce che è una ricchezza fondamentale e che non deve andare perduta in funzione della normalizzazione della standardizzazione certo, quello è corretto e giusto ma c'è bisogno di mantenere vivo il toponimo come è raccontato dai locali e quando è la scrittura e i significati che si nascondono perché la ricchezza della toponomastica la sua grande valenza è proprio un carattere identitario nella lingua nel come viene pronunciato nel quello che racconta nel come viene nominato nei dati che ci permette quindi è un valore evidentemente storico che dobbiamo continuare a studiare ad aver presente e tramandare anche alle nuove generazioni questo non vuol dire poi però e ti ringrazio della citazione che non ci traghetti anche verso il futuro perché siamo sempre noi uomini che dal nostro background culturale poi immaginiamo gli altri mondi e li abbiamo nominati sulla scorta di quale tradizione? quella che conoscevamo la lingua che parlavamo o la cultura di cui eravamo portatori o anche l'immaginario quindi grazie c'è un discorso proprio transcalare che va comunque tenuto molto ben presente e allora chiudo sottolineando l'impegno di Roma 3 ma del centro italiano per gli studi storico-geografici nel suo complesso se vogliamo del quale noi facciamo parte e sottolineare che l'anno prossimo è in previsione un convegno che sulla toponomastica farà perno e sarà molto probabilmente organizzato a Salerno dai colleghi perché c'è nelle nostre corde questa attenzione al dato toponomastico alla storia alla letteratura alla cartografia che ci raccontano questa messe di significati a cui velocemente accennava quel lungo titolo dell'incontro del prossimo anno che si svolgerà qui in Società Geografica e quindi siamo in piena consonanza di interessi e come abbiamo partecipato alla realizzazione della mostra certamente saremo non solo attenti visitatori e partecipatori dei prossimi appuntamenti ma cercheremo di farci parte attiva per sottolineare i tanti aspetti che intorno alla toponomastica si muovono grazie grazie Annelisa grazie molto per la sottolineatura in particolare di questa consonanza che è sicuramente sentita credo veramente da tutti prego adesso professor Morri in rappresentanza di Roma Sapienza ecco a proposito di normalizzazione voi state cercando qualcuno da voi sta cercando di normalizzare questa cosa di Sapienza Università come si dice a Roma non si può vedere si chiama la Sapienza grazie grazie presidente lì c'è la questione di identità visiva a proposito di spessore dei toponimi allora un ringraziamento sentito alla Società Geografia Italiana per aver organizzato accolto questa iniziativa e a un saluto sincero al comandante generale Panizzi anche da parte dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia e un ringraziamento che chiaramente estendo con grandissimo piacere al professor Cantile al professor Gallia per aver messo in evidenza anche nell'incontro di oggi il legame fondamentale in qualche maniera anche fondante tra toponomastica e didattica questo è un aspetto fondamentale innanzitutto perché questo spessore culturale semantico del toponimo è quello che dovrebbe valorizzare anche il ruolo di disciplina cosiddetta cerniera della geografia all'interno del sistema scolastico e universitario perché insomma poi la dimensione didattica il valore della didattica ha e dovrebbe avere un grandissimo peso anche in un contesto universitario perché proprio appunto la complessità e l'articolazione del culturale scientifica del toponimo è quella che consente di mettere al centro la geografia nelle relazioni con le altre con le altre discipline non a caso l'iniziativa che abbiamo tenuto in in sapienza e che i due curatori della mostra hanno accettato di tenere in sapienza ha avuto come elemento come elemento centrale proprio una lezione nell'ambito dell'insegnamento di didattica della geografia e di geografia storica che tiene il sottoscritto nell'ambito dell'insegnamento di geografia generale che tiene la collega la professoressa Sandra Leonardi nell'aula di geografia quindi 200 studenti che hanno avuto modo di innanzitutto come oggi approfondire il legame e l'importanza della tomormassica addirittura per le Nazioni Unite che non è una conoscenza di patrimonio comune e poi appunto anche il dettaglio su quello che era il ruolo dell'Igm nella produzione cartografica e l'attenzione in particolare per il territorio campano e inoltre la disponibilità dei curatori è stata tale che noi abbiamo voluto allestire la mostra in quelli che sono alcuni dei legali locali del polo museale sapienza e l'abbiamo mantenuta fino all'edizione dello scorso anno della notte internazionale della geografia cosa che ha permesso di estendere la fruibilità e l'accessibilità alla mostra grazie al professor Gallia che si è offerto in quel caso anche di fare da guida le numerose persone che tradizionalmente partecipano alla notte internazionale in geografia e alla sapienza quindi di aprire a un pubblico che non è di studenti che non è necessariamente di cultrice e cultore della materia ma di cittadine e cittadini la dimensione toponomastica è fondamentale secondo me anche per riconnettere rialracciare e consolidare ulteriormente il rapporto tra geografia e cartografia chiaramente nel senso comune questa è una relazione che nell'ambito della comunità scientifica negli anni è stata affrontata troppo spesso come problematica troppo spesso come limite piuttosto che come potenzialità e questo significa che il nostro codice per eccellenza quello della geograficità e della cartografia è stato di fatto poi non condiviso ma ceduto ad altre forme di sapere penso che invece sia urgente e necessario che la geografia recuperi questa centralità rispetto al codice cartografico chiaramente in una forma dialogante e relazionale con le altre forme di sapere ma recuperando la posizione centrale che è necessario avere naturalmente in una prospettiva di didattica perché cartografia non si insegna nella scuola proprio perché non si insegna tramite la geografia perché viene ridotto a una forma di sapere tecnico e nozionistico e di nuovo la toponomassica invece può essere la leva per un corretto approccio anche attraverso altre all'insegnamento di altre discipline alla cartografia in termini appunto poi anche di approccio alla conoscenza e di elemento che struttura l'accesso alla conoscenza la geografia è anche questo nello strutturare le relazioni di potere quando va a strutturare queste relazioni di potere nel saper leggere interpretare lo fa istintivamente attraverso il disegno del mondo e il processo di denominazione e non da ultimo ci tengo a cogliere anche l'aspetto che ha colto il professor Bozzato cioè l'idea che oggi si conclude un processo iniziato a Roma 3 passato per Roma Sapienza e per Tor Vergata e che trova la conclusione nella casa della geografia non solo chiaramente di Roma ma in Italia e questa di una maggiore sinergia coesione coordinamento tra i tre principali Atenei Romani non me le vogliano le altre realtà penso che sia un aspetto fondamentale nel recupero di nuovo di questa centralità rispetto a altre discipline che hanno saputo prima di noi più di noi e meglio di noi farsi lobby e questo è un aspetto dal mio punto di vista molto 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 importante grazie grazie ancora grazie 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 al professor Morri anche per queste considerazioni di politica che dovremmo tenere ben presenti a questo punto io pregherei il comandante dell'istituto di giocafile militare il generale Panizzi di voler contesemente intervenire prima di procedere all'inaugurazione ufficiale della mostra che anche in questa occasione verrà guidata da Arturo Gallia e che ci porterà al pian terreno del palazzetto prego generale grazie buongiorno a tutti come già stato detto sono il generale di corpo d'armata Massimo Panizzi sono da poco il comandante dell'istituto geografico militare di Firenze sono contestualmente anche il comandante della diciamo militare del territorio romano che fa parte delle forze operative terrestri ed è proprio per questa concomitanza di incarichi che sono arrivato questa mattina un po' in ritardo e me ne dispiace mi auguro in futuro e spero e conto di potermi dedicare più decisamente e approfonditamente a questioni che riguardano l'istituto geografico militare io ringrazio il presidente il professor Cerretti ringrazio il professor Bozzato la professoressa da scienzo e il professor Morri che conosco adesso vedo per la prima volta vi ho ascoltato ho già anche registrato alcuni spunti che mi interessano particolarmente e dicevo fondamentalmente sono qua per testimoniare la vicinanza anzi direi proprio più che vicinanza il professor Cantile l'appartenenza totale dell'istituto geografico militare alla grande famiglia della cartografia nazionale in cui mi sto veramente cercando di addentrare e appassionare ora noi militari di fatto soprattutto gli ufficiali da quando entriamo in accademia abbiamo a che fare con le carte geografiche le nostre cartine 1.25.000 siamo andati in pattuglia sopravvivevamo anche grazie soltanto alle carte che avevamo dell'Igm e alla la bussola fine ci lasciavano lì e chi sapeva leggere la carta sopravviveva e se no bisognava chiedere aiuto a fidarsi che non sapeva di più nei compagni di pattuglia quindi adesso mi ritrovo tardi in età e in grado ad essere diciamo anche il titolare il direttore dell'istituto che è il grande detentore del sapere cartografico militare italiano e non solo voglio dire che sono onorato di essere qui in questo tempio della cartografia e ci siamo io mi domando da quando sono arrivato all'istituto pensate che nell'istituto ho anche uno dei miei fratelli è un ufficiale del corpo ingegneri che è anche direttore geodetico in tutti questi anni ogni tanto mi raccontavo cosa faceva ma non riguardandomi da vicino non diciamo più di tanto non mi addentravo lui cercava di farmi capire quanto era importante e io ed è forte questa esperienza perché mi aiuta a capire qual è la percezione esterna e le difficoltà del mondo dell'istituto a entrare nell'ambito nazionale e nel creare sinergie ma nel farsi comprendere e da qui credo che fonderò per quanto mi sarà dato di restare all'Igm il mio mandato che può contare grazie a Dio su personalità come il professor Cantile che mi sta dando una grossa mano e allora in sintesi volevo dirvi questo allora io la prima cosa mi sono chiesto che cos'è l'istituto geografico militare e che cosa fa e vi garantisco che chiedendo a personalità del corpo ingegneri e tecnici non è stato facile capire perché alle volte essere troppo tecnici non aiuta la comunicazione molto spesso i tecnici e gli ingegneri cartografi non sanno raccontare a tutti ai giovani e agli studenti alla comunità alla società che cosa fanno perché sono secondo me così addentro alla materia e quindi tecnici perché oggi è una materia veramente tecnica che non sanno a cosa rivolgersi e quindi non aiutano a vincere quello che sta diventando un po' invece la percezione generica della società che tanto c'è Google che risponde io devo andare da Abbi come stamattina il mio conduttore andiamo a Villa Cerimontana ci si arriva più o meno salvo però il senso vietato devi andare all'altra parte non puoi entrare arrivati qua dentro in Villa Cerimontana dove io tanti anni fa venni per un'estate romana a uno degli eventi e poi una volta che sei dentro non sai che fare non sai se puoi andare a destra se la macchina ha un accesso qual è in questa villa meravigliosa l'accesso per arrivare a via la società geografica italiana e quindi allora mi sono chiesto qual è il valore aggiunto che fa l'Igm la risposta che mi è stata data che ho cominciato a listare cosa fa l'Igm lo dico anche per voi è l'ente che produce la cartografia ufficiale dello Stato per il settore di competenze cura il mantenimento dei confini nazionali di terraferma che poi sapete in un'epoca di cambiamenti climatici e non solo non è una cosa scontata soprattutto oggi che sui confini sui confini si dibattono tante etnie tanti popoli e ci sono anche delle guerre come sapete dei conflitti organizza gruppi di ricerca e sviluppo in ambito geotopo cartografico mi viene in mente a proposito di quanto prima che io sono stato in Afghanistan a lungo e sulle questioni dei confini Afghanistan l'Afpac non Pakistan per esempio sulla difficoltà sul fatto che siano stati creati dei confini che non corrispondono poi all'appartenenza etnica dei popoli c'è molto delle guerre che ci sono adesso che abbiamo vissuto e che io poi personalmente ho dovuto con cui ho dovuto convivere per cercare di capire come dare un contributo come Nato come Nato organizzazione a questa diatriba incredibile poi l'istituto geografico militare assicura la formazione professionale del personale tecnico civile militare è una bella scuola la scuola superiore di studi geografici che io sto scoprendo sempre di più e che vedo che ha delle potenzialità che potrebbero essere ulteriormente espresse mi correga se sbaglio professore anche perché le scuole dovrebbero naturalmente soprattutto oggi lavorare in sinergia con università con altre associazioni e con enti e questo è un altro dei nostri in inglese dice way ahead dove vogliamo andare uno dei nostri percorsi futuri il GM supporta la forza armata l'esercito e le altre forze armate in tutte le esigenze cartografiche di carattere operativo addestrativo soprattutto per quanto riguarda le nostre operazioni di peacekeeping assicura la presenza dell'Italia nei vari contesti di cooperazioni internazionali in ambito Nato ascoltavo prima il professore nella Nato si fanno tanti studi tante pianificazioni ma alla fine il linguaggio deve essere standardizzato la terminologia è fondamentale l'attività di standardizzazione che poi si traduce in Stanag è fondamentale l'implementazione degli Stanag è uno dei grandi problemi che abbiamo anche a livello di Nato Nato ONU e Eurogeographics custodisce gelosamente la tradizione di sapere cartografico nazionale e cura il mantenimento del database toponomastico nazionale come abbiamo visto non vado nel dettaglio con l'aiuto del professore abbiamo cercato di individuare i tre grandi filoni tre dei progetti strategici in cui siamo concentrati il primo è l'ampliamento del database toponomastico nazionale non aggiungo altro il secondo l'impegno nella produzione nel perfezionamento di un documento che si chiama One Click Map prodotto cartografico innovativo ricavato dal database di sitesi nazionale ottenibile a domanda in pochi istanti da qualunque hotel il terzo per concludere è lo sforzo che stiamo compiendo nelle attività di catalogazione e digitalizzazione dell'enorme patrimonio cartografico storico la cui valorizzazione è nel nostro museo storico della cartografia italiana un museo che il professore vorrebbe trasformare in un vero museo moderno e sapete che oggi i musei devono avere delle caratteristiche ben definite siccome nella mia carriera militare mi è toccato dirigere avere alle dipendenze dicendo così cinque musei storico militari so quanto è difficile sapete i musei i nostri storici sono meravigliosi chiunque volesse andarli a vedere però ne consiglio uno in particolare noi abbiamo un museo per ogni specialità museo dei bersaglieri degli alpiri parriautisti abbiamo un museo dei granatieri dell'alfanteria qua a Roma abbiamo un museo della prima guerra mondiale che sono stupendi che succede questo per i musei che finché uno non ci va non se ne rende pronto questo è il punto costruire un museo è un'impresa trasformarlo in qualcosa di veramente fruibile secondo i criteri moderni è un'impresa epica epica però diciamo così non ho ancora rinunciato alla lotta no? e allora io ho cercato di riaprire ce l'abbiamo fatto al museo di artiglieria di Torino nella cittadella che è meraviglioso poi quello della cavalleria di Venerolo che è una cosa meravigliosa però è rimasto un museo con una concezione un po' arretrata c'è una serie di sale museali che uno deve stare lì guardare vedere che non ti parla se tu non ti avvicini ecco poi abbiamo il museo dei bersaglieri che è quello nostro di Portapia sapete dove è Portapia qui a Roma no? dentro Portapia costruita da Michelangelo c'è il museo storico dei bersaglieri perché i bersaglieri furono quelli che penetrarono all'epoca della Repubblica Romana ecco il museo dei bersaglieri è uno dei miei grandi problemi attuali perché trasformare questa struttura questo approccio un po' vetusto in qualcosa di moderno è un'altra impresa mondiale che non riuscirò a portare a termine ma cercherò di contribuire il professore io l'ho mandato perché siccome il professore che vuole il museo cartografico nazionale nuovo moderno e ha fatto già i rendering ha fatto già il disegno e siamo diciamo nel fantascientifico ed è ed è bello ma arrivarci è un'impresa allora io l'ho mandato a Trento a vedere il museo storico degli Alpini che è l'unico museo militare che è fatto secondo questa concezione moderna con un mix di multimediale di storico di reperti e di cose che multimedialmente ti rimandano ai reperti è vero che è bello è veramente bello sta dove c'è il mausoreo di Cesare Battisti allora lì stiamo lavorando questa mattina ero al telefono il professore per trasformare la sua idea in qualcosa di concreto dovremmo stiamo facendo un progetto che devono fare le parti del genio ingegneri e abbiamo l'ambizione di finirlo entro il 2024 speriamo di farcela io spero di esserci e di portarlo a termine bisogna veramente dedicarci tanto a tempo volontà e voglia di superare anche dei limiti burocratici perché la burocrazia è forte e ha un senso la burocrazia poi su questo si potrebbe poi aprire tutto un dibattito ma non è il tema oggi detto questo è concluto quando vi dicevo prima che chiedendo agli ingegneri del mio istituto bravissimi aiutatemi a trasmettere all'esterno il ruolo dell'istituto geografico militare che cosa fa come passo ti posso dire a un giovane uno studente a dei ragazzi o in una trasmissione televisiva come succederà adesso che celebreremo a Firenze il 500esimo anniversario della scoperta di Giovanni da Verrazzano esploratore della Baia dell'Alson a New York di fatto lo scopertore di New York come faccia dire che cosa fa l'istituto oggi o sapete che non ce l'hanno fatta a dirmi qualcosa che non fosse estremamente tecnico e quindi posso dirlo incomprensibile la mia non provenienza da un ente geografico mi aiuta nel capire le difficoltà di chi all'esterno e quindi poi anche le difficoltà reperire fondi a far capire quanto sei essenziale allora sapete chi ci ha aiutato a capire il senso della nostra la nostra missione mi dispiace professore anche lei è stato bravo ma era già troppo dentro e allora noi abbiamo celebrato abbiamo commemorato 20 giorni fa mi sembra abbiamo fatto noi abbiamo celebrato il 151esimo anniversario della fondazione dell'istituto contestualmente abbiamo commemorato in una messa la scomparsa di nostri due civili tecnici cartografi che sono morti tragicamente in un incidente proprio mentre facevano cercavano di tracciare i confini in una di queste nostre missioni è stato così gentile da venire da noi a celebrare questa messa il cardinale Bettori che sapete l'arcivesco di Firenze veramente bravo e nella sua omelia lui ha detto chi siamo e noi ci siamo presi quello che lui ha detto e adesso con tutto rispetto ce lo rivediamo perché crediamo aiuti molto nella spiegazione vi dico cosa ha detto il cardinale Bettori sul nostro istituto ha detto sta a voi a voi GM segnare con chiarezza i confini descrivere con esattezza la natura dei luoghi e le loro connessioni un grande sforzo per dare figura alla verità dei territori e quindi un significativo contributo alla conoscenza e all'identità delle comunità che li abitano un apporto decisivo a definirle in se stesse e nel rapporto con la natura con la cultura e con la storia ve ne deve essere grata alla società italiana e dovete essere fieri del contributo che offrite alla sua comprensione e più ampiamente alla verità direi che sono i concetti quando prima si parlava di toponimi che sono proprio come dicevano i tre professori che davanti a me che sono proprio insiti in una semplice toponimo è che lui l'ha detto secondo me in modo mirabile che ci aiuta ovviamente l'ho ritrasmesso agli ingegneri del mio istituto perché fossero aiutati nel trasformare la tecnica in percezione anche in comunicazione comprensibile l'obiettivo l'altro obiettivo che io perseguo è cercare di accrescere la cultura della geografia della cartografia presso i giovani e poi niente io non ho altro che da ringraziarvi di questo invito sono veramente onorato di essere qui anche perché ultimo arrivato anzi proprio perché ultimo arrivato e sono anche contento di essere parte dell'inaugurazione di questa mostra grazie a tutti per l'attenzione siamo noi che la ringraziamo comandante per l'onore che ci ha fatto quest'oggi e poi perché mi auguro e penso che sarà così che avremo modo di collaborare visto che le sue intenzioni sono da considerare delle ottime intenzioni quindi cercheremo per quanto in nostra capacità di sostenere di collaborare se sarà opportuno e richiesto grazie ancora a tutti i presenti per aver seguito i lavori fino qui ora dovremmo passare alla conclusione alla visita della della mostra l'inaugurazione della visita e non so se Arturo Gallia vuole intervenire per premettere qualcosa o se ci trasferiamo direttamente al piano terra prego d'accordo certo non anticipo nulla rispetto a quello che poi dirò dopo sulla mostra ne approfitto semplicemente per ringraziare il professor Cantile di GM tutto ma anche i colleghi di Roma 3 Annalisa d'Ascenso oggi e Carla Masetti diciamo che propose di allestire la mostra in occasione di Mappagis e i colleghi ovviamente i professori Bozzato e Morri per aver accolto la nostra mostra presso le loro sedi perché diciamo è stata appunto è stato detto tanto rispetto a questa mostra dal punto di vista materiale io ho avuto la possibilità non solo di entrare in relazione rafforzare alcune relazioni ma anche di mettere mano prima che venissero esposte mettere mano su prodotti cartografici oggetti cartografici di alcune delle conservatorie napoletane davvero prestigiose davvero davvero poi detentrici di questo materiale assolutamente meraviglioso e oltre a aver avuto la possibilità di collaborare con Andrea Cantile con l'Igm e insomma grazie Andrea per la possibilità insomma in una fase di formazione mia è stato devo dire una tappa durata due anni davvero davvero importante quindi ci tenevo a dirlo e quindi grazie per quanto riguarda la mostra ne parliamo di sotto davanti ai pannelli grazie a questo punto io invito tutti a scendere al piano terra dove rapidamente ci verrà presentata rapidamente la mostra grazie 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 a tutti grazie a tutti Grazie.